Presidente Marchesani, continua la preparazione in attesa dei primi impegni ufficiali, prime sensazioni? Sicuramente l'ambiente è quello giusto, hanno cominciato gli allenamenti col piglio che tutta la società si aspettava, un gruppo dall'inizio subito coeso, ragazzi giovani, qualcuno più esperto come Capitano Ancelotti, sicuramente il coach Raiola ci ha messo del suo, i frutti si stanno venendo sin dai primi giorni, dalle prime settimane dell'allenamento. Ci aspettiamo qualcosa di importante da questa stagione perché è una squadra costruita da coach Raiola insieme al lavoro fatto assiduamente dal nostro direttore sportivo, da Max Del Conte, i calendari ormai sono usciti, le partite si sanno quelle che dobbiamo affrontare, ci aspettiamo una stagione importante, primo obiettivo la salvezza, magari ci gli gira sulla torta qualcosa in più. Peccato l'infortunio di Mastellari, no? Un infortunio avvenuto ben prima dell'inizio della preparazione, sul pollice della mano sinistra, però niente di preoccupante, adesso già è in gruppo, lo vediamo in gruppo che si allena, quindi non dovrebbe essere niente di preoccupante, è pronto subito per la prima giornata di campionato, forse anche in Supercoppa Italia. Le chiedo un'ultima cosa, Presidente, avete scelto l'esperienza di Jackson come americano nello spot di guardia, tra l'altro senza spendere il visto perché è il doppio passaporto. Siamo stati bravi non solo su Jackson ma anche su Vrankic, canadese, passaportato croato, quindi quest'anno è la prima volta che non spendiamo un visto per l'americano, Jackson non è che lo devo scoprire io, ha un curriculum palmarès di tutto rispetto qua in Italia, nell'ultima stagione ha girato con 16 punti di media, è una guardia di quelle che stavamo chiaramente cercando dopo la partenza dell'ex Capitan Meluzzi e quindi è un giocatore notevole che deve fare sicuramente la differenza. Grazie a tutti.